E martedì prossimo si terrà la riunione della prima commissione del Consiglio regionale pugliese. Sarà in videoconferenza, si discuterà della proposta di legge sulle misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche regionali derivanti dal coronavirus. L'ufficio di Presidenza del Consiglio ha autorizzato le sedute in aula o da remoto delle commissioni consigliari permanenti. Questo nei casi di necessità e per trattare affari di urgenza. Lo ha comunicato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo. E martedì prossimo si terrà la prima seduta per discutere in videoconferenza della proposta di legge a firma del Consigliere Amati ed altri consiglieri regionali su misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid-19. Il provvedimento adottato consente lo svolgimento e fissa precise modalità delle attività delle commissioni per l'intero periodo in cui resteranno vigenti le disposizioni governative di contenimento dell'emergenza Covid-19. Le riunioni potranno tenersi nell'aula consigliare, assicurando il necessario distanziamento fisico dei partecipanti, con la presenza dei soli consiglieri componenti e del personale amministrativo nella misura indispensabile al regolare svolgimento della seduta, a norma di regolamento interno con l'esclusione di qualunque altro soggetto. I consiglieri non componenti potranno assistere ai lavori in videoconferenza, modalità che sarà esclusiva per eventuali audizioni. Alternativa è la modalità telematica.